Musica Ciao a tutti ragazzi qui Bozzo e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qua, in poche parole per presentarvi un nuovo video Credo che l'avrate capito E vi insegnerò come installare una semplicissima mod su Minecraft Vi farò vedere anche come funziona Io ho preso una mod che conoscono quasi tutti, almeno spero La Tomani Items Mod Allora, bisogna scaricarla Vi lascio il download in descrizione Ah si ragazzi, vi volevo spiegare Ho un'idea favolosamente favolosa Cioè, io faccio sia video su tutti i gameplay HD Anche il canale che vi lascerò in descrizione E poi anche sul mio canale Ho deciso di fare un video su tutti i gameplay HD Quello principale di Minecraft E poi tutti quelli più piccoli Cioè, quelli con meno senso Li farò sul mio canale Così da... Vabbè, lasciamo stare Adesso vi farò vedere come si installa Andate su Esegui o su chi ha Windows 7 Scrive qua sotto Dove c'ho io tutti i programmi C'ha una linea e lì deve scrivere Scrivete Fate Esegui o... E fate percento App data Percento Vi aprirà questa cartella? No? Voi dovete andare subito su .minecraft No? E ci sarà questa cartella Che si chiama Metainfo Metainformation Si, dovrebbe essere Però vabbè La dovete eliminare subito Elimino Ok Dovete eliminata Spero che l'avete eliminata Perché se non l'eliminate non vi parte Minecraft Aprite la... Lo zip all O winrar o quello che avete Lo aprite Se lo apre Lo aprite e ci sarà tutti questi file Voi dovete andare su .minecraft Aprire bin Zip Ah no ragazzi Ho sbagliato perché In poche parole La cartella Metainf Si trova qua Si trova Guardate Crea cartella C'è una cartella di nome Metainf La eliminate Scusate ho sbagliato Un errore Fail assurdo Come al solito La eliminate La dovete per forza eliminare E copiate tutti i file Di tomanitems Dai Prendete Fate un po' più incolla Se io non riesco neanche a fare quello Fate un po' più incolla E lo mettete Dentro Ecco si Ci sarà Tomanitems Dopo averli copiati Skype che rompe le palle Ci saranno Chiudete tutto Andate su Minecraft Eccoci qua su Minecraft Come vi avevo promesso Siamo qua Siamo qua 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 Si possono Ma non si possono Ci sono I dispawner I funghi Tutto E Che ne so Vi serve Che ne so Questo Vi serve Del latte Prendete il latte Vi serve questo Vi serve questo 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 Potete prendere Poi con la versione nuova Si possono creare oggetti Tipo i miei Bellissimi archi Tipo questa filatezza Dieci Tutto dieci Facendo così Prendendo un piccone Un qualsiasi piccone Lo metti lì E fai efficienza Lo metti tutto al massimo Tutto al massimissimo Ecco Così E questo E diventerà Un piccone Favoloso Adesso vi faccio vedere Vi faccio vedere Buttiamo via Stafitra rossa Che stavo facendo Di riesperi mondi Ok Mettiamo Vedete se si vuole Si può mettere anche Togliere la creativa Mettere in survival Aia Ho buttato il piccone Vai piccone Si può mettere Difficoltà facile Difficile Normale Pacifica Media Alta Banane Per Si può mettere La vita al massimo Si può settare La giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte Mettiamo giorno E si può mettere Rain Snow Cioè la pioggia Si o no Ok Proviamo Vedete che piove Vedete Vedrete Sono Un scemo Vi mettete Che ne so Bah 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 Dov'è Ma ci sarà pure Ma Non lo vedo ragazzi Non lo vedo Aiutatemi Ah eccolo qua Il diamond Ok Posizionate che ne so Un po' di diamond Ok E con questo Con un piccone normale Vi da solo un diamond Invece con questo Ve ne da Aspettate che vi faccio vedere Solo un diamond Cos'ha? Cosa ho fatto? Cosa ho schiacciato? Boh No Mi sono impedito Come un cavallo Con invece con questo Info un centato Vi da Ma È di una velocità È come essere in creativa Ma state che Che schiacci E Ve lo da Che figo Guardate No no Qua no Potete prendere qualsiasi cosa Eh visto che ci siamo Indovinate un po' cosa faccio C'è questo bellissimo Spawner Villager Bello Bellissimo È bellissimo Lo vedete no? Tra dieci secondi Lo vedrete in tutt'altro stile Fatto molto meglio Eh no Scherzavo Io perché pensavo di mettere in Vabbè Babbababababam Eh Tra dieci minuti Un secondo Lo vedrete in tutt'altro Ragazzi Mi dispiace ma La ristrutturazione Non è andata come previsto Infatti È successo Un capapino Un capapino Un papino Un carapipino E vabbè Il villaggio ormai È Al suo Cedimento più totale Poveracci Tutto sta bruciando Uno spider Quindi ragazzi Ciao a tutti E al prossimo video Ciao ciao